ciao a tutti bentornati su andrea piccinelli.net siamo di nuovo a rimini a una fiera tutta nuova il K Energy Transition Expo quello che era il K Energy si stacca quest'anno dal Ecomondo e diventa una fiera a parte una fiera a sé molto più grande rispetto a quello che era il K Energy con tanti padiglioni dedicati soprattutto al fotovoltaico ma anche all'eolico e allo storage e soprattutto tanti grandi ritorni perché il K Energy negli ultimi anni è stato un po' snobbato da tante marche soprattutto di inverte dal 22 al 24 invece sono tutti qua tutti a Rimini andiamo a scoprire tutte le novità di questa fiera Allora ormai un appuntamento fisso a tutte le fiere sul Solare Assolutamente Siamo di nuovo da SAJ Buongiorno Inauguriamo il test dei produttori di questa fiera Allora 10 domande velocissime Allora Prima è facile Nome, nazione e core business Pietro Gintoli, country manager Italia di SAJ SAJ è una società cinese Core business, invertere batterie, applicazioni residenziali e C&I Siamo Zucchetti Centro Sistemi Siamo presenti un po' in tutta Europa però l'headquarter è chiaramente italiano Il core business ne abbiamo diversi ma a questa fiera presentiamo la divisione che si occupa esplicitamente di energie rinnovabili Quindi fotovoltaico nello specifico SMA Italia Abbiamo la filiale di Milano Facciamo parte di un gruppo che è una multinazionale tedesca che ha sede in tutto il mondo Il business sono invertere fotovoltaici dalla taglia dal 1500 fino al megawatt di potenza Nome dell'azienda? Fronius La sede principale e quindi il sito produttivo è in Alta Austria vicino all'Inz Ha tre unità di business Saldatura In ambito automotive, cantieri navali Quindi utilizziamo sondatrici robotizzate C'è una divisione che si occupa del perfect charging Quindi della ricarica di quello che è il mondo della trazione E infine l'ultima nata anche se come dicevo prima vanta più di 30 anni di storia Nella divisione solare per la produzione di inverter solari Baiva, Renovable Energy, Core Business Nello specifico io vi posso raccontare quello che è la distribuzione solare Nazione di origine, Germania, Monaco di Baviera Anche se di fatto sull'Italia Verona L'azienda è LG Energy Solution come abbiamo già detto Il Core Business sono le batterie al litio La nazione è Sud Corea L'headquarter sta a Seul Sì, Sunerg Solar Siamo assolutamente made in Italy Core Business siamo nel mondo del fotovoltaico Proprio come produttori del solare termico Pompe di calore, ibride Sistemi di connessione di fotovoltaico Diciamo sia per residenziali che per industriali Coenergia, trienergia, distributore Coenergia distributore, produttore ai mondi Senec Italia, nazione chiaramente Italia Core Business, commercializzazione di sistemi di accumulo energetico da fonte rinnovabile Omnia Solar, nazione Italia, provincia di Cuneo, Piemonte Produzione e vendita di moduli fotovoltaici ad alto contenuto tecnologico SolarWat, GMBH, ovviamente la sede a Dresda Core Business, moduli fotovoltaici, storage Quindi sistemi di storage per il presidenziale specifico I vostri migliori pregi in tre parole Affidabilità, innovazione e disponibilità Allora, siamo un'azienda sicuramente flessibile Presente e lasciatemi dire, a parte il sottoscritto, anche giovane Perché l'età media è molto bassa Affidabilità, ha un'assistenza notevole La parte tecnica non seconda nessuno Direi che i pregi sono l'affidabilità del prodotto La possibilità di effettuare la sostituzione dei componenti on-site e il service Sicuramente visione, globalità e onestà intellettuale Allora, sicuramente è la stabilità del gruppo La tecnologia, perché diciamo, sulle batterie di uniti litio Noi abbiamo il numero più alto di brevetti al mondo E siamo una delle poche aziende che costruiscono effettivamente la cella elettrochimica Che è il cuore delle batterie Made in Italy, qualità e cuore Dopo il 2022 è dura Prima il 2021 era sicuramente velocità di consegna Disponibilità di materiale e servizio Dopo il 2022 c'è stata un po' di confusione nel mercato Ma penso che sia un mal comune Per quanto stiamo cercando di riprendere la corsa per il 2023 Diamo una soluzione a 360 gradi Diamo un prodotto assolutamente affidabile di qualità tedesca E diamo un pacchetto di soluzioni per l'autonomia energetica davvero completa Un'azienda giovane, dinamica, tecnologica Durata nel tempo, ok Supporto e servizio garantito ai nostri clienti Domanda di Fairplay A suo dato che siete la prima scelta, chi è la seconda? Il prossimo inverter SJ Difficile dirlo, oggi sul mercato ci sono tanti player Mi verrebbe da dire nomi abbastanza altisonanti Tipo per il nostro mercato Huawei o Solar Age Che fanno anche loro degli ottimi volumi Questa è una bella domanda Se non è un inverter SMA Andrei su un inverter che può essere Un inverter Fronius forse sì Ma in questo momento devo dire che la seconda scelta è sicuramente un produttore asiatico Perché siamo rimasti veramente in pochi Se non posso dire quasi gli unici a produrre in Europa Quindi è sicuramente un produttore asiatico il secondo Beh, tendenzialmente è sempre buy, ma poi Allora, ci sono altre aziende importanti Non vorrei fare un torto qualcuno nominando Tizio, piuttosto che Caio Quello che è certo è che su dieci aziende che vendono batterie Probabilmente una o due le costruisce Il resto è rebranding, diciamo Dando per scontato che voi siate la prima scelta Chi è il vostro competitore? Tutti gli altri Oh, non dopo scontato che siamo la prima Ma mi piace essere tra i primi Poi le seconde sono sicuramente P.P.Solar e P.M.Service nel nostro ambito Ma non è bello fare nomi, ma comunque ce ne sono No, assolutamente di vale Beh, in seconda posizione ci sono veramente tante aziende Non siamo noi in grado di dichiarare chi è che si merita questa posizione Ci interessa essere un passo avanti agli altri Noi Bilancio Superbonus, positivo o negativo? Beh, se dobbiamo guardare in tema di quello che è stato fatto durante il periodo di validità del Superbonus È assolutamente positivo Per come è stato gestito la situazione post Superbonus Purtroppo tendiamo che qualche negatività la vedremo Molto positivo, anzi ce ne fossero di soluzioni come queste Perché hanno dato veramente un grandissimo slancio non solo al fotovoltaico Ma in generale a tutto il mercato edilizio in genere Con tutti i problemi di gestione dei prezzi che già sappiamo Però il bilancio è nettamente positivo Estremamente positivo È capitato in un momento che non se la passava bene il mercato in generale Però sicuramente per quello che ci riguarda è estremamente positivo Il Superbonus ha dato un'enorme spinta a quello che è il mondo dei sistemi di accumulo Per certi versi anche diciamo sovradimensionando quella che era la necessità di storage Un po' come tutti i mercati quando sono incentivati o in questo caso quasi regalati Ecco diciamo che portano ad un picco di richiesta e poi un conseguente calo di quello che è la domanda Ma è fisiologico ma poi porta a consolidare alcune tecnologie Quindi alla discesa normalmente di quelli che sono i prezzi e alla stabilizzazione del mercato Quindi è sicuramente positivo a mio avviso il Superbonus Assolutamente negativo, mi sbilancio Si è lavorato tanto, forse un po' troppo di rincorsa E non secondo le tempistiche necessarie per sostenere uno sviluppo di mercato Equilibrato, equo e sostenibilmente compatibile a quello che probabilmente era il mercato È stato un periodo molto intenso Quindi da un punto di vista professionale è un'esperienza sicuramente interessante Dal punto di vista forse etico e morale è un qualcosa di più negativo Se parliamo dal punto di vista meramente di fatturato molto positivo Se ti devo dare un'impressione personale a me non è piaciuto onestamente Si potrebbero spendere questi soldi diversamente E devo dirti anche una cosa, da un punto di vista aziendale Quindi soprattutto visto dalla Corea Spesso ci confrontano con mercati più stabili Quindi per non fare nomi per la Germania Loro vedono la Germania come un mercato stabile Su cui si può investire, su cui si può fare conto L'Italia un anno va bene, l'anno dopo va benissimo L'anno dopo niente Quindi veramente per loro è complicato Allora, bilancio super bonus positivo Anche se avremmo fatto in Italia qualcosa di diverso Che dia più continuità Questo è il problema principale, cioè lo stop and go Se lo guardiamo in termini di mercato è stato sicuramente positivo In termini di crescita del mercato è stato negativo Perché è meglio crescere un po' meno che troppo per cui fermarsi Allora, è stato un bellissimo momento per il settore Per dare un boost a questo segmento economico Ma soprattutto per far pensare alle persone All'autonomia energetica Positivo per quello che probabilmente ha fatto Negativo per come è stata fatta la gestione Positivo ma allo stesso tempo in parte negativo Tempi di consegna ad oggi residenziale e industriale Direi pronta consegna E sull'industriale? Fino alla taglia di 50 kilowatt Siamo messi abbastanza bene Stiamo parlando di poche settimane Quando la taglia aumenta i 100 kilowatt I tempi si allungano leggermente Stiamo parlando di qualche settimana Dipende dalle taglie Però si va dai 3 mesi ai 4 mesi Dipende Noi lavoriamo molto sul programmato Quindi è difficile dirlo Non lavorando a stock Non abbiamo gestione oggi per domani Ma lavoriamo con un programmato trimestrale o semestrale Sull'industriale più o meno si tratta delle stesse questioni Ordinando un inverter residenziale da 6 kilowatt La disponibilità è altissima in questo momento Non abbiamo una grossa mancanza E gli inverter tri fase Gli inverter un po' più grandicelli Che invece sono andati in saturazione Nel senso che i nostri rivenditori hanno i nostri prodotti Perché non facciamo vendita diretta Abbiamo dei rivenditori Abbiamo corrisposto tutta quella che poteva essere la loro richiesta E sono già finiti Allora nel residenziale siamo messi e posizionati veramente bene Riusciamo ad essere disponibili in pronta consegna Oserei dire sul mondo della distribuzione Per quanto riguarda il mercato residenziale Sull'industriale in questo momento abbiamo un picco di domanda Di conseguenza ci sono alcune linee di prodotto Che soffrono un po' di più In particolare parlo degli inverter da 50 e da 100 kilowatt Alcuni distributori ce l'hanno disponibile in pronta consegna Peraltro il tempo medio di attesa potrebbe arrivare Diciamo fino a 6 mesi oserei dire Ma ci sono delle linee di prodotto Ad esempio il 25 kilowatt e 20 kilowatt Che sono disponibili in pronta consegna Di quale marchio mi viene da dire Che no comunque tendenzialmente ad oggi Il residenziale ha subito una frenata importante Probabilmente in virtù della fine di questo super bonus E quindi ad oggi la disponibilità c'è E il materiale è reperibile Sull'industriale lo scenario si è totalmente stravolto Rispetto all'anno scorso E rispetto all'ambito residenziale stesso Tendenzialmente in termini di consegna Anche qui molto è legato al prodotto E al taglio di potenza dell'inverter stesso Siamo nell'ordine dei 4-5 mesi Ieri No oggi non abbiamo Quest'anno non c'è più nessun tipo di problema Sulle disponibilità dei prodotti Per i residenziali in questo momento sono tempi brevi Potrebbe essere all'interno di un mese Se ci sono quantitativi di richieste materiali Possiamo arrivare anche a due mesi Per industriale anche con programmazione Lavoriamo sulle programmazioni nella rete di distribuzione Risidenziale è prodotto a consegna Industriale problemi grossi E' l'ordine di? Ma è una problematica di inverter La crescita dell'automotive Porta componenti di trasformazione CC e AC Quindi sulle auto e non sugli inversi C'è una grande concorrenza C'è una grande concorrenza Se parliamo del centro Italia Intorno ai 7-10 giorni Se parliamo del sud Siamo intorno ai 15 giorni Quanto durerà questo periodo d'oro di forte crescita? Siamo un po' nel periodo d'oro Ma io mi auguro finché non vado in pensione Detto sinceramente Ve lo dico con tutta sincerità No, scherzi a parte Il mercato in generale delle rinnovabili E il tema dell'energia E' ormai un tema che ha raggiunto una condizione di irreversibilità Cioè si va in questa direzione A prescindere dai bonus L'esigenza di energia c'è e va soddisfatta Credo che si parlerà di questo tipo di settore Ne avrà ancora fino al 2030 Anche perché ci sono dei protocolli da rispettare Internazionali Per il popolo di chiotto e quant'altro Dove abbiamo l'obbligo Tra virgolette Di andare ad avere una quantità di energia rinnovabili Molto superiore a quella attuale Noi ci aspettiamo sicuramente Che con le politiche Che sono state adottate a livello comunitario Anche a livello europeo Ci aspettiamo un mercato florido In costante crescita O comunque che si andrà a stabilizzare Almeno intorno ai 2 gigawatt 2 gigawatt e mezzo Da qui al 2030 Mi auguro il più possibile E soprattutto mi auguro che possa andare avanti In virtù di una responsabilizzazione Di una visione legata a un insieme di valori E di condotte morali Piuttosto che a una dinamica meramente speculativa Dal mio punto di vista Il mondo e il mercato fotovoltaico E anche dell'accumulo Non si fermerà mai più Diventerà come il mercato dello scaldabagno Come la pompa di calore È un mercato che continuerà sempre in futuro Quello di cui abbiamo bisogno è una stabilità E una chiarezza negli incentivi E nel mercato Sarebbe bello Eh sì, sarebbe molto bello Ma guardando avanti Il costo dell'energia che cresce Crediamo che il settore Non crolli Ma vada sempre avanti Anzi sarà sempre in crescita Perché le energie alternative Saranno sempre il punto di riferimento Al di là dei contributi Teoricamente Non abbiamo problemi di futurabilità Per i prossimi sei anni Ma secondo me La siatretica porta questo settore A crescere per almeno altri vent'anni È destinato a durare Veramente molto a lungo Perché? Perché di fatto L'indipendenza energetica è importante E a breve non ci sarà più energia per tutti Quindi bisogna produrla E produrla tanta autonomamente Ci auguriamo per parecchio tempo Da quello che abbiamo visto qua in fiera Il periodo sarà medio-lungo Ma il periodo d'oro sta a noi Giustamente il volano del 110 Superbonus eccetera eccetera È un volano importante Però noi stiamo sempre di più Ok? Cercando di capitalizzare Terna ultimamente ha equiparati I sistemi di accumulo Ad impianti di generazione Ha senso pensare ad impianti Con solo le batterie Senza una vera produzione? Beh questa è una bella domanda Diciamo che se Terna ha pensato Di poter approfondire questo argomento Sicuramente ci sono Un qualcosa che lo supporta Personalmente Onestamente Devo approfondire più Beh sì Ha senso Specialmente nell'ottica Adesso delle comunità energetiche Laddove le produzioni Sono dislocate Ma comunque localizzate In determinate aree della città E i vari utenti Possono beneficiare Di un accumulo Anche in diretto Questo è un beneficio Anche per i gestori Della rete come Terna Che vengono sgravati Da tutte quelle che sono Le oscillazioni di produzione Di tipi di una rinnovabile Ha senso limitatamente Al tipo di tariffa Che io ho Nell'andare a ricaricare la batteria Se il mio concetto è Ricarico la batteria di notte Per poi sfruttarla di giorno Allora può avere un minimo di senso Però così vado anche a sacrificare In maniera importante la batteria Che continua a caricarsi e scaricarsi Per quanto ci riguarda Diciamo che dal punto di vista tecnico Il sistema di accumulo O meglio la batteria È sempre stata considerata Come un generatore Dal punto di vista della connessione Il fatto che possa essere Realizzato un impianto Senza quelli che sono I moduli fotovoltaici Quindi la batteria Permetta di stoccare energia E di poterla rilasciare In un secondo momento Lo reputo interessante Perché ci sono delle fasi Della giornata Delle fasce orarie In cui abbiamo Diciamo le reti scariche E piuttosto altre fasce In cui sono molto Sovraccaricate Sollecitate E a mio avviso Il sistema di accumulo Potrebbe diventare Un valido strumento Che supporta la rete E permette di rendere La rete resiliente Un' domanda difficile Adesso lo scenario È sicuramente una visione Che Terna può avere Che io di riflesso Non mi sento mia E non penso di possedere Bella domanda Passiamo alla prossima No, secondo me Non ha senso Anche nello spirito Delle rinnovabili Bisogna produrre Energia dal sole Perché a volte Ce lo dimentichiamo Ma se facciamo Quello che facciamo È perché Vogliamo decarbonizzare Quindi bisogna produrre Energia dal sole Magari in maniera locale Evitando sprechi E perdite Sulla rete Ok Da valutare È un po' In valutazione Se ci sono le comunità energetiche Che c'è Allora Produrre E Immagazzinare Energia Conviene sempre Adesso c'è una grande novità Nelle comunità energetiche Si potrebbe ipoteticamente Aver bisogno Di batterie Senza la produzione Consiglio per tutti Laddove hai Un tetto Una qualsiasi esposizione a sud Via Pannello E si produce Non siamo proprio in linea Con questo pensiero C'è un conflitto di interesse In questa risposta No Dal mio punto di vista Ma non dico altro Ok Allora Integrazione e gestione Dei consumi Del singolo edificio O comunità energetiche In percentuale Quanto state lavorando Su uno o sull'altro Il 50% Sono due opportunità Per cui stiamo cercando Di fornire il prodotto Che possa gestire al meglio Entrambe le soluzioni Diciamo che su questa direzione Stiamo investendo moltissimo Perché vediamo questo Come la scelta Inevitabile per il futuro Cioè L'integrazione dei sistemi Che sia nel tema Di comunità energetica O qualcosa di diverso È inevitabile Non si può pensare adesso Di essere Prosumer singoli Ma bisogna integrarsi Nel sistema Quindi su quello Lato software E hardware Stiamo investendo Allora La comunità energetica Ha un problema Che ancora non ha avuto Una definizione precisa Di quello che si vuole Noi siamo sul pezzo Abbiamo questo tipo Di tecnologia C'è da sviluppare Tutto un software Che permetta Aspettiamo di avere Qualche chiarimento In più dal governo Per avere le indicazioni Anche di quello Che può essere Le comunità energetiche Però noi da questo punto Di vista siamo pronti Riteniamo che L'inverter In ambito residenziale Almeno possa essere Il master del sistema E colui che va quindi A gestire i flussi energetici Cercando di ottimizzare L'autoconsumo Per quanto riguarda Le comunità energetiche Saranno sicuramente In futuro È già argomento Di discussione È già attualità Per noi Però l'altro Abbiamo già Abbiamo già Il nostro inverter Che sono stati utilizzati Proprio per le prime 40 comunità energetiche Che sono attualmente Attive in Italia E fanno parte Del diciamo Decreto sperimentale Ambe due Perché no Sicuramente si parla Tanto di comunità energetiche È un tema molto caldo E c'è da capire La bontà Di queste valutazioni E della fattibilità Dei progetti stessi La certezza però È molto lontana Concordo Noi le ricerche Le facciamo Sulla produzione Di batterie Sempre più evolute Sempre più efficienti Sempre più piccole E leggere Dopodiché Non abbiamo oggi Filoni di ricerca Sulle comunità energetiche In modo specifico Tutta la nostra ricerca È focalizzata Sulle batterie Abbiamo iniziato qualcosa Nelle comunità energetiche Il problema è la burocrazia L'idea è ottima Dovremmo snellire Tutta la parte burocratica Per poterla attuare Va la domanda In questo momento L'ideale sarebbero Le comunità energetiche Ma ci sono problemi Sulle infrastrutture Quindi iniziamo dal basso Un singolo edificio Comunità energetica Assolutamente Perché è il futuro Perché con le comunità energetiche Giustamente anche adesso Non ci sono più rialcise C'è anche un concetto Di autonomia Proprio dalla rete Anche dal carbone Quindi dalle fonti Non rinnovabili Quindi no Assolutamente Meglio la comunità energetica Sempre Entrambe In base all'esigenza Dell'edificio Sarei superficiale A dare una risposta Pronta Il discorso È molto più articolato Però 60-40 Se posso dire Domanda disinteressata Siamo quasi alla fine Guarderai questo video Quando uscirà? Assolutamente Sarò il primo Assolutamente sì Anzi voglio vedere Se si sente l'accento toscano Oppure no 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 Certo Assolutamente A stagliare l'indirizzo Ma si guarda tutto Per forza Assolutamente Non vediamo l'ora Anzi faremo pressione Su Andrea Picinelli Per avere questo video A questo punto Assolutamente sì Vi devo segnare Solamente Il canale Perché Stasera Mi sarò dimenticato Probabilmente tutto Assolutamente sì Ho bisogno del link Subito E lo devo girare A tutti i miei conoscenzi Assolutamente Ma sicuramente sì Se sono io Lo guardo Assolutamente sì Perché Mi piace parlare Del lavoro che faccio In primis Ma Assolutamente Poi diffondere Questo concetto Ai più Magari con una faccia Migliore della mia Ma Questa Però Assolutamente sì Assolutamente sì Certamente E lo riposterò Sicuramente E infine Il tema più importante Di ogni fiera Il gadget più bello L'avete voi? Non credo Sono carini Ma non credo Che siano più innovativi Forse dal punto di vista Dei gadget L'innovazione Non è esattamente Quello che ci contraddistingue I nostri sono molto standard Diciamo Investiamo il giusto Su quella roba lì Ci basiamo su altre cose Però Ho visto roba interessante Assolutamente sì Tra In questa casa Ti devo rimandare Alle ragazze del marketing Che sono loro Ma è sicuramente Il più bello Di tutto In tema di gadget Non so Credo che qualcuno Possa essere Veramente Più bravo di noi In questo tema Ma noi È rinomato Siamo bravi Per fargli inverter E per dare servizi Invece i gadget Ci vengono un po' meno bene Ecco Sì Assolutamente A testimonianza Di quanto dico Dele sfondo Nello specifico Abbiamo una Bellissima marmellata Come potete vedere Ed è legata A un concetto Molto più ampio Che non vi racconterò Perché non faccio parte Dell'ufficio marketing Seppur garantisco Di possedere Il concetto Molto bene Però Appropondite il tema Perché è davvero interessante E ha una componente etica E valoriale Molto molto interessante No Purtroppo Per la mia azienda Non è famosissima Per i gadget E quindi Non so neanche Se abbiamo Forse il cordino E nient'altro Quindi no Se venite qua Non venite per i gadget Perché non abbiamo Di bellissimi Sì Sono le nostre stand liste Che naturalmente Diciamo Coronano Tutti quelli Che sono i nostri Materiali Non lo so Io Abbiamo cercato bene Quello che serve È poter ricaricare qualcosa No Si parla di un anno Fatto con lo storage Che è stato un boom Quindi Abbiamo pensato Un semplice powerbank Ricarica solare Speriamo che piaccia E che sia funzionale Abbiamo dei gadget Diversi Belli Assolutamente Sì E alla fine Sì Assolutamente Sì Il gadget È la mia più bella Sì Il gadget più bello L'abbiamo noi Il gadget più bello È il servizio Continua per Non dico 24 Ma 10 ore al giorno Per il nostro cliente Grazie 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 a te Grazie come al solito Grazie Grazie a te Grazie mille Grazie a te Va bene Adesso andiamo a vedere Adesso vado a vedere La vostra parete Bene Grazie Grazie mille Della disponibilità Ti ringrazio Grazie a voi Grazie mille Grazie Grazie a voi Perfetto Grazie mille Figurati Grazie per te Chiedo un biglietto Da visita Che ti mando Perfetto Grazie mille Grazie E anche perché Oggettivamente Ve lo dico Siete gli unici produttori Di pannelli Con cui sono riuscito A parlare Perfetto Grazie mille Grazie a te Per tutto Perfetto È stato un piacere Sono le sei e mezza E non sono ancora uscito Mi chiodo dentro Ma no C'è ancora tutto È ancora pieno di gente Il video di oggi Finisce qui Fatemi sapere nei commenti Che cosa ne pensate E se il video vi è piaciuto Ricordatevi di lasciarmi un like E di condividerlo con i vostri amici Se non siete ancora iscritti al canale E volete farlo Potete cliccare sul tasto iscriviti E sulla campanella Per stare aggiornati Sull'uscita di nuovi video Vi ricordo che Oltre ad iscrivervi Potete sostenere il canale Abbonandovi con uno dei pacchetti Che ho studiato per voi In particolare Vi segnalo Il nuovo abbonamento Produttore consapevole Che vi dà Oltre a vantaggi social Su YouTube Anche la possibilità di usufruire Del servizio di monitoraggio mensile Che ho creato Grazie alla collaborazione Con SunReport Per contattarmi Trovate in descrizione Il modulo di contatto Per informazioni Consulenze Domande generiche Eccetera Il modulo per l'iscrizione Archivi installatori di qualità E il modulo per l'iscrizione Ai corsi Sulle pratiche di connessione Per impianti fotovoltaici Sia in iter semplificato Che in iter ordinario Che sono già attivi Sempre in descrizione Trovate tutti i miei recapiti I canali social Facebook LinkedIn Instagram Il mio sito Il link a Patreon Se volete sostenere il canale E infine qualche curiosità Sul canale Come per esempio Tutta l'attrezzatura Che utilizzo Per realizzare questi video Io come al solito Vi ringrazio Per aver guardato Questo video fino alla fine E vi do appuntamento Al prossimo viaggio Nel mondo del fotovoltaico